Musica Martedì 20 agosto, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con la rassegna stampa di TRG, prima pagina. Le notizie in evidenza dai quotidiani dell'Umbria, certamente la politica perché ormai è chiaro il panorama in vista delle prossime elezioni regionali che sempre più potrebbero svolgersi il 17-18 novembre, questa data va verso una certa definizione. Diciamo molta politica perché ormai il quadro sembra abbastanza chiaro, quantomeno due poli si contenderanno la guida della regione, seppur non mancano altre ipotesi di candidatura. Dal lato comunque la certezza di Donatella Tesei, dall'altro quella di Stefania Proietti. E vedremo insomma che questi sono due dei volti che troveremo nei quotidiani quest'oggi, ma non solo, si parla anche di eventi, dal Festival delle Nazioni di Città di Castello che è stato presentato nella giornata di ieri, al Festival del Medioevo di Gubbio che ha invece pubblicato ieri il programma con ricchissimi eventi e personaggi. E poi insomma parleremo di cronaca con topi di appartamento, ma parleremo anche del prossimo avvio dell'anno scolastico. E allora andiamo a vedere il Cogliere dell'Umbria che proprio all'anno scolastico dedica l'apertura con le cattedre dei nuovi prof in attesa dell'avvio dell'anno scolastico. Assegnati 459 incarichi a tempo indeterminato, più della metà vanno alle superiori. E poi la cronaca, siamo a Perugia, picchia il fidanzato per gelosia, 21 giorno di prognosi, mentre da Città di Castello, Festival delle Nazioni, tanti eventi. La fotonotizia ci fa parlare di sport, padre e figlia campioni del mondo. Si tratta di Veniero Spada e la figlia Catiuscia, campioni di tiro a volo Compac. E poi ancora dalla Corriere dell'Umbria, la prima pagina, piovono 120 mila euro con due vincite ad Assisi e Campello sul Clitunno. Questo il dorso della Corriere, andiamo a quello regionale della Nazione. Con la cronaca, siamo a Perugia, in fuga contro mano e a folle velocità. A Perugia un'auto ignora l'alt delle forze dell'ordine. Chi la guida è senza patente, sperona la polstrada con un veicolo non assicurato. E poi quando viene fermata all'interno si vede che ha anche della cocaina. Siamo invece sulla Flaminia, scontro sulla Flaminia. Siamo nello spoletino, bilancio, cinque feriti. Magione, furto e spaccio erano in tre in un'auto rubata. Come dicevamo, la politica, eccoli i volti di Stefania Proietti per il centro-sinistra, Donatella Tesei per il centro-destra, in vista delle prossime elezioni regionali. Ma l'apertura è dedicata alla scuola perché a settembre si torna in classe e quindi scatta il nodo degli abbonamenti scolastici con la regione che fa pressing perché il costo venga rateizzato. Economia, i nostri artigiani stanno sparendo. Foligno, pazienti su Barelle, interroga il sindacato, interroga l'ASL su questa ipotesi e questa segnalazione che viene fatta dall'ospedale Folignate. Poi siamo a Narni che purtroppo è stata a teatro di incendi negli ultimi giorni. Dietro i roghi c'è la mano dei piromadi, l'appello del primo cittadino ad indagare su questo fatto. Come dicevamo, ieri è stato pubblicato il programma del Festival del Medioevo a Gubbio da Guccini a Lucarelli, Medioevo Festival Show e poi il bilancio dei siti d'arte nel periodo del Ferragosto. Questo è il messaggero, furti è la prima paura degli Umbri, boom di acquisti di sistemi di allarme e di collegamenti tra abitazioni e cellulare, solo il 7% della popolazione non si tutela. E poi la crisi demografica in Umbria non si ferma, in 20 anni abbiamo perso 20.000 lavoratori, lo dice AUR, l'agenzia Umbra Ricerche. E ancora la cronaca, siamo a Spoleto, carambola tra due auto, sei feriti, uno è gravissimo. Parliamo di sport, rally, la prima è di Foligno, Chiara Galli sul podio del rally di Lucca. Da Perugia, top in centro a causa dei rifiuti abbandonati e in tema di rifiuti c'è l'intervento dell'assessore regionale Melasecche, fototrappole per battere i vandali delle discariche, cioè coloro che abbandonano i rifiuti sulle piazzole di sosta delle strade. Andiamo ad Orvieto, Pasotti e Piovani, parole note alla rassegna della Piana, ancora da Città di Castello, il programma del Festival delle Nazioni. Ovviamente su questo avremo un servizio e un approfondimento nella rassegna stampa delle 7.30. Andiamo a vedere allora le notizie in primo piano, lo facciamo con il Corriere dell'Umbria che si occupa di politica e già perché ovviamente con Stefania Proietti che si candida alla guida della regione Umbria, laddove fosse eletta, si aprirebbe la questione della successione sia alla guida della provincia di Perugia, perché oggi la Proietti è presidente della provincia di Perugia, sia ovviamente alla guida della comune di Assisi. Per il comune di Assisi, laddove Proietti fosse eletta a guidare la regione, ci sarebbe il vice sindaco, almeno fino al 2025 quando si andrebbe al voto, mentre per la provincia di Perugia l'ipotesi è ovviamente anche in questo caso che vada il vice presidente, ovvero l'attuale sindaco di Spello Landrini. Ma, dice il Corriere dell'Umbria, tutti i nomi in corsa per la successione, non c'è solamente Landrini, c'è anche per la provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti, attuale sindaco di Gualdo Tadino, per un riequilibrio, diciamo così, delle cariche, quindi assegnare anche in alto chiascio comunque un nome. Ancora, anche il Corriere si occupa dell'appello, diciamo così, della regione con l'assessore regionale Melasec, che sferza Anas perché ci sia una ripulitura dei rifiuti nelle piazzole. E poi andiamo alla Nazione, anch'essa si occupa di regionali. Parte la campagna elettorale, sui social è già battaglia. Stefania Proietti è da tre giorni su decine e decine di pagine e siti web, mentre Donatella, età 6, sceglie di non inseguire la sua avversaria. Intanto per il voto si fa sempre più concreta l'ipotesi che si vada a votare il 17-18 novembre. Andiamo a parlare di scuola perché arriva settembre e allora si comincia a lavorare per stipulare abbonamenti scolastici. La regione spinge perché questi abbonamenti vengano rateizzati. Fra tre settimane riparte l'anno scolastico, ma le tessere per gli studenti delle superiori in Umbria sono tra le più care d'Italia. Ancora andiamo sempre alle pagine della Nazione. Ce ne siamo occupati anche noi nei nostri telegiornali, in particolare il Tg Economia, ovvero l'allarme che è stato lanciato dalla CGA di Mestre, che è un centro studi che ha analizzato regione per regione la situazione degli artigiani. Ebbene, ce ne sono sempre di meno anche in Umbria. Anzi, l'Umbria è la più povera. Secondo questo studio, dal 2012 si sono perse in Umbria 8.000 unità. Mancano falegnami, sarti, corniciai, calzolai, insomma, mancano idraulici, mancano elettricisti. Andiamo avanti e invece facciamo con la Nazione il bilancio del periodo di Ferragosto per quel che riguarda i musei. Ebbene, è andata benissimo, la galleria è la star della festa. In tantissimi, in 32.000, infatti, in questo periodo ferragostano, hanno varcato le soglie del Museo dell'Umbria. Andiamo al messaggero. L'Umbria è sempre più vecchia, ha persi 20.000 lavoratori, meno famiglie con figli. L'analisi, dicevamo, di Giuseppe Cocco di Aura, l'Agenzia Umbria Ricerche, che disegna la struttura della popolazione Umbria. Intanto vi daremo i dettagli nella rassegna stampa delle 7.30, dove vedremo nel dettaglio l'infografica, però vi annunciamo che il meteo oggi ci segnala allerta gialla, poi tornerà il bel tempo. Ancora per il messaggero, gli Umbri in vacanza. I furti sono il primo stress, a tal punto che, secondo un'indagine, molti sono ricorsi in questo periodo all'acquisto di un sistema di allarme contro l'intrusione di ladri. In basso, sulle tracce delle origini umbre, 10.000 km in Turchia, lungo le piste dei Babilonesi, la storia di un esploratore, Francesco Loreti, che insieme alla sua moto ha fatto questa avventura. Queste erano le notizie in primo piano, che arrivano dal messaggero. Andiamo a vedere i singoli territori, ripartendo dal Corriere dell'Umbria, e siamo a Perugia. Ha approvato il piano di interventi PNRR per il recupero della Torre del Mulino della Catasta lungo il percorso tra Villa Pitignano e Ponte Felcino. E poi ancora, sempre dall'area perugina, ma siamo a Corciano, all'agosto corcianese, applausi dal pubblico e tanti eventi sold out, successo per le rievocazioni storiche, ma non solo quelle. Ancora l'omaggio di Enzo De Caro, sempre a Corciano, al maestro Carosone, dice il primo rapper della storia. Andiamo a parlare di altri appuntamenti, siamo sempre nel Perugino, Sere State, Gemelle sotto le stelle, cinema al Parco Aretino. Prende il via la rassegna dedicata alle città gemellate. E poi, ancora dal Corriere, siamo a Magione, la cronaca a bordo di un'auto rubata, con la droga da spacciare, denunciati tre uomini. La vettura è stata annotata da un militare libero dal servizio, che ha richiesto il supporto prima della polizia locale, poi dei colleghi. Intanto, a Passignano, sul Trasimeno, ieri per ora è stato cercato un anziano affetto da Alzheimer, che si era disperso, è stato portato in ospedale, e alla fine si è scoperto, fortunatamente, che è in buona salute. Siamo ad Assisi, punto di ascolto antiviolenza, in tre anni, 61 richieste d'aiuto. E poi, siamo a Bastia Umbra, Madonna della Pietà, la festa in piazza, accende ospedalicchio, da venerdì prossimo. Ancora, andiamo a Marsciano, morto in piscina, due indagati. E' iscritto, iscritti nel registro, due dei bagnini presenti, al momento della tragedia del 10 agosto. ipotesi di omicidio colposo. Ricorderete, ha perso la vita un 32enne di cerqueto, che lascia moglie e figlio di quattro mesi. Disposta, oltre all'autopsia, un'attack, una total body sulla Salma. Intanto, a Torgiano, traguardo ormai vicino, per la passerella sul Tevere, la soddisfazione del sindaco. Andiamo in Alto Tevere, il Festival delle Nazioni omaggio al Portogallo, ne parleremo dettagliatamente nella rassegna stampa delle 7.30. Salcerini, parlando appunto del festival, è un patrimonio da non disperdere. Tradizioni e finger food in centro, siamo sempre a Città di Castello, dove da giovedì parte la fiera di San Bartolomeo, in particolare nel fine settimana dedicata alla fiera degli animali, ma non solo quelli. Il maltempo segna il successo a metà dell'edizione agostana di Retro a Città di Castello, e poi ci spostiamo nel territorio di Umbertide, gara di solidarietà per il restauro della edicola avotiva che è stata danneggiata da bandali. A Pietralunga, ragazzi al lavoro nel terreno confiscato dall'Andrangheta per iniziativa di Libera, a Montone, Porta del Borgo, si aggiudica il palio che celebra Braccio, Forte Braccio. Siamo a Gubbio, i giganti del Festival del Medioevo, è stato presentato, è stato pubblicato in realtà il programma del Festival del Medioevo, ne parleremo anche di questo con più dettaglio nella rassegna stampa delle 7.30. Intanto, certamente, vi segnaliamo che tra gli ospiti ci sarà il cantautore Guccini, e poi andiamo a Gualdo Tadino dove si è svolto il trofeo cardinali trionfano Castagnoli e Lilli, Castagnoli per l'arco, San Facondino, Lilli per la fionda, Porta San Donato. Andiamo a Foligno e parliamo di Quintana, prove con l'incognita pista. Dopo aver chiesto di irrigare il tracciato, alcuni rioni hanno rinunciato al test, si torna in campo domani alle 17.00. e poi fine settimana di gastronomia e musica con la festa della pecora, siamo sempre a Foligno, e sempre da Foligno centro Mancini, bivacchi e rifiuti, la denuncia dei residenti, l'edificio perde pezzi e nel giardino ci sono siringhe e carcasse di animali. Andiamo a Spoleto, scontro sulla Flaminia, sono sei feriti, due persone ricoverate in codice rosso a seguito del violento impatto tra due auto attivato anche l'elisoccorso. Campioni paralimpici in città, siamo sempre a Spoleto, il vice sindaco Lisci, siamo molto orgogliosi di ospitare i due azzurri in una struttura di tale livello. Le stelle, Liverani e Lazzaro hanno scelto il tiro a segno a Spoleto per ultimare la preparazione in vista dei giochi paralimpici di Parigi. Andiamo a Terni, area ex Italtella, prezzo di saldo, il grande complesso industriale di Maratta abbandonato da dieci anni va all'asta per due milioni contro i dieci della prima valutazione. E poi gara di solidarietà per aiutare a Terni un bambino gravemente malato, il piccolo Damiano a soli tre anni affetto da neuroblastoma. Ancora Terni, pini tagliati, piantati altri alberi. Un anno fa erano stati abbattuti 200 esemplari, il PD all'attacco del Comune, sulle politiche per il Verde. E ancora da 50 anni ad esplorare le grotte siamo a Stroncone, il gruppo speleologico celebra il suo mezzo secolo di attività. Da Narni, no della regione, al biodigestore, i comitati ambientalisti annunciano che si è espressa negativamente anche la commissione tecnica dell'ente. e poi ancora da Narni, gastronomie stratte tanzanti alla festa del Il Piantone. Siamo nel territorio di Arezzo, quindi lo lasciamo ovviamente ai lettori interessati. Noi andiamo alla Nazione per le sue pagine di interesse locale. Allora vedremo che ripartiamo da Perugia, in particolare eccoci qua, ripartiamo da questo fatto di cronaca che avevamo visto in primo piano ovvero fugge all'alt paura della notte. Siamo a Perugia e ci dicevamo folle corsa anche contro mano e senza patente né assicurazione. L'inseguimento da film è accaduto sul raccordo poi per le vie di Olmo e Santa Sabina un pregiudicato straniero ubriaco asperonato un'auto della Polstrada. Alla fine è stato bloccato in un parcheggio aveva commesso reati contro la persona e riguardanti anche lo spaccio di stupefacenti. Siamo sempre nel Perugino l'addio a Michele Renzo chiesa gremita e lacrime a Pieve di Campo e molti hanno voluto dare l'ultimo saluto al magistrato scomparso improvvisamente a Perugia per un malore lo scorso 16 agosto. Ancora da Perugia le stelle del Padel Emma e Matilde del Padel Arena di Perugia sono due ragazze di Gualdo Tadino le due atlete sono state convocate nella nazionale di Padel per il prossimo 2-7 settembre. Furto spaccio e ricettazione tre pregiudicati fermati a bordo di un'auto rubata questo l'abbiamo visto è accaduto a Magione a Castiglione del Lago la rassegna internazionale del folklore ha riempito l'arena ad Assisi il Monte Subasio protagonista 5 eventi gratuiti con uno sguardo ai più piccoli l'appuntamento dal 22 agosto al 22 settembre e poi c'è Todi in Piazza del Popolo la scultura di Marc Suvero siamo a Bastia Umbra dove il sindaco Pecci parla di caporalato saremo attenti e vigili chiaramente per combatterlo negli ultimi giorni c'era stato un fatto di cronaca in tal senso da Gubbio liberi e democratici in regione tutti i territori devono essere rappresentati il partito scrive una nota agli altri esponenti del centro-sinistra perché ci sia una unità di intenti in vista delle prossime elezioni amministrative e poi da Città di Castello il Festival delle Nazioni ne parleremo alle 7.30 mentre da Umbertide Madonnina deturpata è corsa per poterla restaurare siamo a Foligno polemica sull'ospedale ci sono o no i ricoveri sulle barelle nei corridoi lo chiede la consigliera comunale del PD Rita Barbetti all'USL2 da Terni le mani dei piromeni in realtà siamo più che altro nel territorio di Narni dietro ai roghi chi ha visto denunci alle autorità lo dice il sindaco di Narni dopo i tre incendi che hanno bruciato qualcosa come 40 ettari di verde Orvieto sia la commissione sanità ma fuori tutti i dati sull'ospedale questa era la nazione andiamo al messaggero per le sue pagine dei singoli territori siamo a Perugia e vedrete che il tema del giorno riguarda i topi non d'appartamento ma i topi veri e propri topi a passeggio in centro colpa dei rifiuti in strada segnalazioni da Borgobello a Portasole c'è chi smaltisce in maniera non corretta intanto c'è anche questa segnalazione di notti ragazzini salgono in bilico sui tetti allarme da Balanzano per le evoluzioni pericolose su alcuni palazzi in costruzione droga nell'auto in fuga l'abbiamo già raccontato a Perugia pattuglia speronata arrestato un tunisino piazza Grimana ha preso uno spacciatore ascisce vicino al campo da basket e poi ancora siamo qui nel mondo del calcio sassate e sputi all'arbitro per la partita dei ragazzi un dirigente dell'Angelana 1930 finisce a processo dopo la squalifica di due anni so che macchina hai non scappi questa una minaccia ha cercato di colpire l'assistente con l'ombrello ancora a Gubbio un piano per l'ex mattatoio ospiterà il mercato dei prodotti tipici a Umbertide come abbiamo visto mobilitazione per ripulire la madonnina che è stata deturpata a Foligno sicurezza stradale arrivano interventi per 48 mila euro e poi a Tavola con gli antichi romani qui siamo a Spello che rivive i fasti dell'epoca romana in questa settimana da Spoleto la cronaca sconto tra due auto restano feriti in sei uno è gravissimo da Terni alla Falcone Borsellino parliamo di scuola tornerà la mensa classico fine dell'esilio entro l'anno dice l'assessore Maggi la consegna dei cantieri il Ferragosto salva l'estate del turismo siamo a Terni alla cascata delle marmole la cascata ha fatto il botto con quasi 10.000 presenze le spiaggette del lago di Piediluco si sono riempite Federalberghi nell'ultimo weekend occupate l'85% delle camere terni il 100% al lago va bene anche la Val Nerina e poi il Festival delle Nazioni da Città di Castello che quest'anno omaggia il Portogallo ma ne parleremo con più dettaglio alle 7.30 ora è tempo di aprire le pagine di sport lo facciamo proprio con il messaggero Perugia Perugia Calcio ovviamente un hub per gli argentini l'idea è quella di importare talenti dal Sud America per poi valorizzare il lavoro cedendoli in giro per l'Europa da Terni Fere Tito e Romeo un colpo doppio l'esterno sinistro è il giocatore con più presenze il Lega Pro il giovane trequartista è una promessa della categoria e poi c'è il gubbio dal Pescara Tommasini e Franchini andiamo avanti sempre dal messaggero parliamo di motori Chiara Galli la regina dei rally siamo a Foligno la Folignate vince a Lucca balza in testa alla classifica ora guida il campionato italiano di categoria canottaggio siamo a Terni mondiali under 23 Renzi in semifinale e poi il volley parliamo della Bartocini questa Bartocini già mi piace il coach Andrea Giovi fa il punto sulla preparazione della sua squadra questo era il messaggero andiamo al Corriere dell'Umbria per parlare di sport torniamo al grifo il campo promuove il grifo il Perugia è ripartito con due vittorie in altrettante gare ufficiali per di più giocate in trasferta parla Formisano un'altra buona prestazione conferma che stiamo crescendo grazie al lavoro quotidiano da Gubbio doppio colpo del Gubbio dal Pescara arrivano Franchini e Tomassini e ancora andiamo a parlare della Ternana a Fera il giorno di Romeo ieri c'è stata l'ufficializzazione di Fabio Tito difensore esterno prelevato a titolo definitivo dall'Avellino e ancora per il volley parliamo del del volley femminile di A1 Black Angels squadra super il vicepresidente della Bartocini MC Restauri Gargaglia vedo un team che definisce equilibrato e di grande talento e poi ancora tiro a volo spada e spada oro mondiale parla Umbro la specialità del compact l'Italia prima squadra in campo femminile con 550 su 600 vediamo sul podio proprio Catiuscia veniero insieme al padre che appunto riesce a convincere e vincere in questa categoria di tiro a volo questo per le pagine di sport del corriere velocemente uno sguardo a le pagine di sport della nazione prima di lasciarci per la pubblicità e allora santo padre eccolo qua lascio il Perugia in buone mani l'atto definitivo alla fine della della diligence controllo dei conti ancora in corso ma si firmerà entro il 30 il presidente dice con faraoni ho dato al grifo un futuro importante c'è la ternana che si rinforza arrivano tito e romeo in arrivo e poi ancora per le pagine di sport andiamo a parlare del gubbio taurino fa il punto sul mercato siamo in ritardo ancora per il volley la sirsusa quindi volley maschile loser di nuovo in gruppo oggi è atteso Ishikawa in alto serie d torniamo al calcio trestina si stringe per monte leone volley san giustino che arricchisce lo staff bene questo per le pagine dello sport che si fermano qui solo per il momento perché tra poco alle 7.30 torniamo con la rassegna stampa approfondita tutte le notizie dai territori